buongiorno buongiorno allora i temi sono sempre molto variegati o meglio sono due extra calcio e calcio cominciamo dall'extra calcio ma perché facciamo un'altra riflessione proprio così tra me è proprio sinceramente una cosa che mi sovviene cioè in Inghilterra il Manchester City è indagato per aver effettuato si dice sarebbero contestate 100 violazioni delle norme relative al bilancio negli ultimi 8-9 anni adesso non ricordo bene quale sia il periodo diciamo così messo sotto la lente di ingrandimento e cosa è successo è successo che praticamente quello che è trappelato è che le altre società si siano coalizzate diciamo così per chiedere in sostanza che il City sia pesantemente punito le altre società della premia punizione che può andare da penalizzazione sanzioni economiche addirittura esclusione dalla premia quindi retrocessione nella premiership eccetera la corrispondente serie b del campionato inglese in Italia aspetta quindi aspettate non aspetta quindi cosa significa che tutte le altre società della premier ritengono di essere integerrime ritengono di aver mai violato nessuna norma di bilancio e quindi si ergono a palladine della giustizia i fatti o comunque le interpretazioni a dare a questa circostanza sono due o ci stanno a provare come dicono a Roma ma ovviamente un po così pretenziosamente oppure effettivamente sono tutte pulite cioè nessuna di queste teme di poter fare nemmeno lontanamente o di poter vivere o di poter vivere nemmeno lontanamente la situazione che vive il Manchester City in Italia nessuna società si è schierata fino a questo momento per chiedere che la Juventus venga punita cioè non ho sentore di riunioni di coalizioni né tantomeno ci sono indiscrezioni sul fatto che appunto le società di Serie A chiedano che alla Juventus venga applicata una punizione esemplare insomma questa è la logica che praticamente ho voluto mettere in luce la differenza che c'è là in Inghilterra rispetto a quello che succede in Italia con le dovute interpretazioni eventuali del caso la Juventus ha rafforzato il reparto difensivo non è una notizia di mercato ma è una notizia extra calcio perché si è affidata a due massimi esperti di diritto sia sportivo che diritto ordinario diciamo così per contrastare la sentenza della Corte d'Appello e soprattutto per affrontare il nuovo procedimento che ci dovrà essere a febbraio, fine febbraio, primi di marzo, ragazzi veramente con le date non ci sto capendo più comunque sostanzialmente il procedimento quello relativo, no 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 si va no no si va e come perché è stato chiesto il supplemento di indagini si va praticamente a maggio con quello là con quello relativo ai bilanci e al differimento degli stipendi dell'iscrizione a bilancio degli stipendi a cui i giocatori avevano rinunciato in parte nel periodo della pandemia comunque si sta dotando ovviamente di tanti esperti per poter fronteggiare questa situazione la situazione non è bella, ce lo stiamo dicendo da tanto tempo ci stiamo dicendo però altrettanto che questa sentenza della Corte d'Appello federale presenta dei margini per poter intervenire in vizi di forma, vizi procedurali eccetera eccetera questo nonostante qualcuno sia estremamente convinto del fatto che la sentenza non era confermata se la sentenza dovesse essere confermata diciamo che dovrà essere motivata molto bene la conformità dal punto di vista procedurale e l'assenza di quei vizi di forma che invece pare di poter riscontrare ad una prima, non una prima, ad una prima, ad una seconda anche una decima, una ventesima, una trentesima lettura anzi con più si legge con queste motivazioni con più si ha la sensazione che la Juventus si possa insinuare c'è chi dice non per ottenere un annullamento totale della sentenza ma soprattutto una riforma della sentenza quindi un rinvio alla Corte d'Appello e quindi ottenere una riforma della sentenza sull'altro fronte sta prevalendo la corrente di pensiero che vorrebbe che la Juve sfruttasse la situazione Santoriello per provare di nuovo davanti al GUP, all'unice di ovvivenza preliminare provare di nuovo a spostare il procedimento da Torino a Milano e quindi anche questo è un fronte sicuramente importante da seguire avremo dei mesi molto caldi ragazzi, è inevitabile, ci sono già stati dei mesi caldi a dispetto del freddo meteorologico, avremo dei mesi molto caldi dal punto di vista giudiziario, giuridico eccetera certo adesso prefigurarsi negli scenari non è semplice, non è facile anche se per qualcuno sono già scritti e inappellabili però insomma faccio fatica adesso a pensare ad una totale reset anche perché mi sembra che la società si stia muovendo anche sul mercato perché questo interessamento per frattesi è reale e quindi ci sia la volontà comunque da parte della società di allestire una formazione comunque abbastanza competitiva che perderà molto probabilmente degli uomini chiave, degli uomini importanti ma che si doterà di giovani e soprattutto italiani una specie di blocco italiano per poter ripartire perché ragazzi insomma l'esclusione dell'Europa è una situazione che bisogna probabilmente, forse è la prima situazione probabilmente da mettere in preventivo ed è difficile trattenere certi giocatori poi senti dire che Pogba e Chiesa rimarranno Calvo stesso ha detto che Pogba è un punto fermo a lunga scadenza sarebbe ora che iniziasse, diciamo così, a far valere questa lunga scadenza visto che non lo sia ancora visto e non lo si vedrà nemmeno contro la Fiorentina e forse nemmeno contro il Nantes ma qui si entra veramente nel mistero più totale quanto a Chiesa ragazzi, adesso è prematuro chiedersi cosa potrà succedere che cosa potrà fare, cosa potrà eventualmente decidere è un ragazzo molto serio, è un ragazzo molto coscienzioso è un ragazzo che ha a cuore sicuramente la Juventus e ha a cuore sicuramente anche la pazienza che ha avuto la Juventus nell'attenderlo e questi possono essere elementi che su un giocatore come lui su una persona come lui possono fare anche breccia in vista di una decisione che magari potrebbe anche sorprendere i più però da qui a dire che succederà intanto aspettiamo di vedere cosa accade però diciamo che anche in questo caso qualche possibilità qualche possibilità a sensazione credo che ci sia iscrivetevi al canale ci vediamo questa sera con il secondo video vi ricordo che l'appuntamento con numero 10 grazie grazie